Truffa aggravata ai danni dell'Unione Europea, per questo è stato chiesto il rinvio a giudizio per a quattro suore dell'Istituto Santa Elisabetta. A chiederlo per due religiose di Arezzo e due di Firenze, il PM Giulia Maggiore, secondo l'accusa infatti le suore avrebbero utilizzato pacchi alimentari ricevuti attraverso fondi europei destinati all'aiuto degli indigenti per gli ospiti delle residenze per anziani che gestiscono, una nel centro storico aretino, una policiano ed infine un'altra a Prato Vecchio Stia, cibi che così sarebbero stati utilizzati per finalità di lucro. Le fiamme gialle hanno trovato infatti pacchi di pasta, riso, barattoli di pomodoro e bottiglie di olio con la dicitura di non commerciabilità e con il marchio dei fondi europei. Il valore della merce usata con finalità diverse da quelle indicate dalla comunità europea sarebbe di 8.000 euro, buona parte utilizzato per la RSA di Arezzo, il resto nelle altre due strutture convenzionate. La mia nonna è tranquilla, serena, mi sembra strana una cosa però, vabbè, cose che succedono purtroppo in Italia. I fatti risalgono al periodo compreso tra il dicembre 2016 e il novembre 2017, sono emersi durante un controllo della Guardia di Finanza Aretina che ha rilevato l'ipotesi di truffa e truffa aggravata. Le suore di Santa Elisabetta che hanno respinto ogni addebito preferiscono non rilasciare alcuna dichiarazione ai nostri microfoni, restando chiuse nel loro silenzio. Adesso il GIP del Tribunale di Arezzo dovrà decidere se mandare a processo le quattro religiose.